Poco più di 144 mila chiamate e circa 87 mila interventi, numeri importanti che attestano come anche nel 2023 l'attività della sala operativa dal 118 di Lecce sia stata intensa e anche più del periodo covid. Nel 2020 gli interventi erano stati 78 mila e nel 2021 83 mila. Chiamate che aumentano di gran lunga nel periodo estivo, considerando la presenza di turisti ma anche dei molti salentini che fanno rientro nei propri comuni d'origine. Il picco di interventi si è avuto infatti a luglio circa 9.400 quelli effettuati, ma anche ad agosto non è andata meglio considerando che il dato è stato di 8.700. Ad incidere in modo significativo su questo trend sono stati gli incidenti stradali che hanno coinvolto specialmente motociclisti, ma sono in crescita anche quelli dovuti all'uso improprio dei monopattini. Non da meno sono stati i soccorsi sui luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri. Quello che però preoccupa gli operatori sono le molte chiamate cosiddette inappropriate, ovvero codici non gravi che andrebbero presi in carico dai medici di medicina generale o dalla guardia medica. In totale nel 2023 i codici verdi sono stati circa 28 mila, i gialli poco più di 43 mila, i rossi circa 4.300. Noi contiamo alla fine dell'anno circa un 30% di chiamate inappropriate che potrebbero essere gestite da altre risorse sanitarie, non dal 118, togliendo queste risorse purtroppo alle emergenze reali. Avvengono per esempio negli orari notturni, nei festivi dove purtroppo vi è una flessione della disponibilità di altre risorse. Il medico di medicina generale sappiamo che dal giorno di sab dopo le 10 non è più disponibile dovrebbe intervenire la guardia medica, la continuità assistenziale cosiddetta. Spesso è insufficiente questo intervento per cui giustamente l'utente chiama il 118 dove risponde sempre qualcuno. Per far fronte a questa situazione evidenzia il dottor Scardia serve attivare al più presto case della comunità e le COT. Io spero che con le previsioni rispetto al PNRR si possano in qualche modo costruire queste case della comunità oppure ospedali di comunità e soprattutto attivare le cosiddette COT, centrali operative territoriali che dovrebbero gestire proprio i codici bianchi e verdi.